Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video oggi siamo qui per farvi vedere i migliori 5 microfoni da youtube allora uno è quello lì piccolo ragazzi che uso io che si può attaccare da qualche parte o un bicchiere o qua solo con la maglietta io me lo aggancio su una maglietta oppure dove volete voi su un bicchiere come ho detto io poi il secondo microfono è quelli che vedete che usano i youtuber quelli abbastanza grossi tra i saranno tra allora più di 20 euro tra i 20 euro e i 90 euro comunque spero che mi richiederanno anche quello alla comunione o al mio compleanno poi il terzo è quello lì ragazzi con sempre un microfono ragazzi sempre quel microfono grande e tipo c'è una cosa al cerchio che è protettiva non lo so qualcosa del genere per parlare meglio non lo so poi il quarto microfono è quello da... aspettate che non me lo ricordo ci penso un attimo e poi arrivo il quinto ragazzi è praticamente è sempre uno grande 23 euro 23 euro eh dopo ve lo faccio vedere praticamente vedete la mia posizione qua c'è una cosa così è un filo una specie di filo e qua c'è il microfono per parlare il quinto ragazzi sarà aspettate un attimo che non mi ricordo mai niente ah il quinto ragazzi sarà quello per la smr se farete se fate la smr quello adatto è quello oppure ci sono è peloso ci vediamo dopo ve lo faccio vedere certo ragazzi è dopo eccoci qua ragazzi per farti vedere i microfoni di cui parlavo io allora ragazzi quello che ho io è questo però solo che non è non mi ha costato 8 euro e 10 mi ha costato 5 euro eh abbastanza io non capisco tanto se mi funziona ragazzi oppure no poi questo è il primo di cui vi parlavo quello che ho io poi quello lì con il cerchio ricoperto sono questi qui 19 euro così ragazzi poi c'è questo qui grande di cui vi parlavo 43 euro ah buono non me l'ho racconto questo potrebbe essere utilizzabile si chiama mosescettet microfono lavalier lavalier quello che ho io ecco ragazzi di cui quello l'ultimo microfono che io vi parlavo ci sono ancora due è questo di cui non c'era proprio un filo ci stanno queste cose per queste cose per reggere il microfono e poi potete parlare dovete attaccare qualcosa e parlate mamma mia quanto costa 169 euro 168 euro poi sempre un lavalier questo qua 16 euro cioè questo costa 1 milione e 90 poi c'è 77 euro questo qua sembra buono buono sembra poi ci sta questo di 10 euro sembra abbastanza 10 euro ma che cavolo 10 euro ragazzi potrebbero anche andare bene e poi è finito qua ragazzi se questo vi è piaciuto lasciate like scrivete e commentate noi ci becchiamo sempre domani ciao ragazzi ciao 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 a tutti